carissimi amici e amiche bentornati siamo alla quarta quinta puntata del circo di catechesi dedicato a tenere amata la volta scorsa ci siamo lasciati imparando che cosa è la nozione del paratempo in particolare il picco secondo e con la presa di coscienza che fino a quando siamo in questo mondo abbiamo la nostra coscienza fortemente legata all'attimo presente dobbiamo tenere presente queste nozioni perché oggi ce ne sarà qualcun'altra che ci preparano poi a entrare nel mondo nel clima e anche in tutto quello che nel corso della dell'opera piano piano andremo con andremo scoprendo passerei rapidamente la lettura perché anche il paragrafo di oggi che è molto bello e impegnativo però è anche abbastanza corposo quindi non mi dilungherei in introduzioni troppo elaborate articolate preferendo passare di corsa alla lettura quindi riprendo dal paragrafo capitolo come preferite 5 dicevi argomentai a tenere amata che stiamo vivendo al ritmo di mille milionesimi di picosecondo l'abbiamo visto la volta scorsa questo se è così ci troviamo in un movimento alla cui frequenza deve essere milioni di volte inferiore al movimento di rotazione sulla terra allora vuol dire che siamo molto vicini all'immobilità assoluta forse ci avviciniamo a nulla non ti inquietare stiamo molto lontani dall'immobilità assoluta ricorda l'esempio classico della teoria della relatività se una macchina circola sulla strada a 100 km l'ora qual è la velocità assoluta di questo veicolo è chiaro che la sua velocità relativa in rapporto alla strada che si suppone immobile è di 100 km orari ma per calcolare la velocità assoluta si dovrebbero sommare algebricamente ai 100 km all'ora la velocità di rotazione della terra più la sua velocità di traslazione intorno al sole più la velocità di traslazione del sistema solare verso la costellazione di ercole più la velocità di traslazione di tutta la nostra galassia verso altre galassie più l'immensa celerità dell'espansione di tutto l'universo allora qui chiaramente si entra in concetti faccio una piccola parentesi questa è uno spaccato della teoria della relatività di Einstein che io ricordo a grandi linee questo lo capisco abbastanza bene io ricordo anche quando studiavo in seminario con un bravissimo professore Gianfranco Basti che è veramente una mente credo che sia ancora vivo veramente da un punto di vista l'intelligenza di quest'uomo è stato veramente per me edificante qualcosa di straordinario anche la cultura le cose che ho imparato quindi e allora la macchina che va a 100 km all'ora va a 100 km all'ora qui qui se io però considero semplicemente la dimensione terra ma come abbiamo già accennato la volta scorsa la terra non sta ferma la terra si muove e come vedremo perché li considero tutte e due più avanti dando anche i numeri la terra gira intorno a se stessa la terra gira intorno al sole ma non solo il sistema solare questo per chi non lo sapesse non è fermo ma ha una velocità di traslazione verso la costellazione di Ercole la nostra galassia la via Lattea non è ferma ma ha una velocità di traslazione verso altre galassie e l'universo intero non è fermo ma ha un moto di espansione quindi vogliamo andare a vedere quel 100 km orari che ha la velocità relativa che noi percepiamo qui sulla terra cosa sarebbe in termini di velocità assoluta anche qui i numeri è meglio che non ci pensiamo ok perché sarebbe un numero assolutamente incomprensibile questo è fondamentale questo qui amici cioè riflettere su queste cose guardate queste sono cose della fisica non della metafisica non sono cose teologiche ma voi immaginate semplicemente avendo già questa percezione cioè l'uomo queste cose le sa oggi un tempo non si sapevano ma sono cose oggettive queste qui allora riflettere su queste cose ci dà la percezione della nostra piccolezza e della nostra relatività specialmente dinanzi alle cose di Dio guardate amici io più passo il tempo più veramente la cosa che mi mette tra virgolette paura in senso evidentemente traslato in metaforia è quando vedo le persone sparare ma che te spari specialmente sulle cose sulle cose di Dio che spari noi siamo piccoli dobbiamo stare sempre molto 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 umili specialmente quando si entra in questi mondi e quando si entra in contatto con certi tipi di conoscenze che ci sovrastano sono trascendenti devi stare calmo prima di dire che chiacchieri che chiacchieri che blateri aspetta conta fino a 10 anzi fino a fino a 10 alla decima facciamo dai non è un numero troppo troppo grosso il risultato riprendo la lettura conclusa allegramente sarebbe che la macchina in rapporto all'immobilità assoluta e non il rapporto alla strada che arbitrariamente abbiamo considerato come immobile perché non è immobile circolerebbe a migliaia e migliaia di chilometri al secondo al secondo non l'ora non a 100 all'ora poi eventualmente nelle domande cioè al termine della diretta specialmente chi segue la diretta oppure nei commenti su speaker su youtube guardate che su speaker si possono scrivere i commenti e podcast non so se si possa fare anche su video non mi ricordo su google podcast e su spotify e su apple podcast non credo ma su speaker si io posso vedere i commenti scritti su speaker credo anche sul sito web mio credo va bene quindi questo per per cominciare di nuovo a ricalibrarci e a risituarci correttamente quindi dice lui ed io che avevo pensato che avevo pensato che eravamo prossimi a riposo assoluto non avevo mai immaginato che la terra si muovesse tanto velocemente ed è così ti assicuro disse per confortarmi che nonostante la grande lentezza di questo paratempo il fumo della sigaretta che rimane immobile l'abbiamo già visto la volta scorsa no? quindi niente che si muove siamo molto lontani dall'immobilità completa la quale del resto non è tanto temibile l'immobilità non è lo stesso che il nulla tranquillizzati non ti accadrà nessun male il nostro Dio ha permesso questo paratempo con te forse che non hai fiducia nella divina sapienza bello no? stai ricevendo un regalo gli stai dicendo in fondo da parte del Signore se lui per fartelo ti mette in questa condizione e state quieto state state quieto lui sa bene quello che fa sì sì certo certo risposi più per compromesso che per convinzione eppure se ci muoviamo più lentamente della terra perché restiamo ai nostri posti come se ci muovessimo alla stessa velocità del pianeta più avanti dice lei intravederai la spiegazione per il momento ti rispondo con un esempio la luce che entra dalla finestra si muove a 300.000 km al secondo questa è la velocità della luce e nonostante ciò il fascio di raggi luminosi tu lo vedi fisso avete mai visto qui nella mia chiesetta ogni tanto adesso è passato il periodo ma in certi mesi estivi a volte è successo c'è c'è alcuna omelia io sto facendo una domenica ci sono a volte dei giochi di luce con le aperture delle finestre che creano dei spettacoli meravigliosi guarda caso proprio quando comincio l'omelia si era creata una convergenza di luci che davano proprio sul mio volto io tra l'altro c'avevo il telefono vicino me ne so accorto e dico sicuramente cominceranno a fare i ricami che Don Leonardo è circondato di luce quindi chi lo sa che sta succedendo è un gioco di luce è certamente una creazione di nostro signore niente di più però quella roba sembra fissa sembra ferma quella roba sta viaggiando a 300.000 km al secondo la terra sta girando sta girando a 108.000 km all'ora lo dirà tra poco intorno al sole eppure qualcuno di voi avverte il brivido di viaggiare a 108.000 km l'ora ragazzi cioè gli aerei se non se non vado errato c'è pure un mio collaboratore che fa il pilota che mi corregge dovrebbero andare intorno a 1000 all'ora gli aerei credo ecco perché la velocità l'aerosupersonica adesso mi pare che l'abbiano messo in pensione mi pare sempre insomma però va intorno a 1000 all'ora ma insomma l'aero corre le macchine di formula 1 almeno le mini scienze di quelle pochissime volte che ho visto qualcosa che non ho mai avuto grandi passioni per queste cose però andavano a 300 350 all'ora non lo so se adesso arrivano a 400 perché non sono un esperto ma insomma la macchina di formula 1 se uno ci sale sopra ti si addrizzano perché c'era tutti quanti i capelli ma capito 108.000 km l'ora quanti sono cioè la macchina di formula 1 per arrivare cioè 400 km l'ora per 10 fa 4000 km l'ora per 100 fa 40.000 km l'ora quindi per arrivare 108.000 km devi fare quasi moltiplicare la velocità della macchina di formula 1 per 300 cioè non potremmo resistere a una cosa del genere eppure io sto tanto tranquillo guardate io il mal di testa non è mica venuto sto parlando e sembra che sto tranquillo sereno e disteso nella quiete della canonica nelle quiete delle sere di inizio autunno sermonetano la stessa cosa riprendo la lettura appunto succede con la terra che sta girando e sembra immobile l'apparenza ingannano ma un'altra cosa è nel tuo stesso corpo ma voi pensate che esiste la materia inerte cioè allora un minimo di cognizione queste cose penso che non ci vogliono una grandissima cultura perché si dovrebbero studiare anche le scuole medie e gli atomi gli atomi si muovono non sono mica fermi lo spiega adesso nel tuo stesso corpo gli elettroni dei tuoi atomi vibrano ad una velocità prossima a quella della luce un atomo si fa certi giri che viaggia quasi alla velocità della luce intorno al nucleo scusate un elettrone sappiamo che ha fatto un atomo c'è il nucleo dove ci sono i protoni e i neutroni e intorno ci stanno gli elettroni qualcuno di voi noi per caso avverte che c'è tutta sta fibrillazione nelle nostre cellule in tutte le cellule ma anche nel tavolo che c'ho davanti a me anche nel computer che c'ho davanti a me perché gli atomi del computer sono sempre atomi pure se è materia non organica e allora sono molto limitati i sensi corporali la terra ad esempio viaggia intorno al sole questo l'ho già anticipato io alla velocità di circa 108.000 km all'ora e nessun civicchia e nessun mortale sento un così eccessivo movimento giusto dunque se esclusivamente ti limitassi alla testimonianza dei tuoi sensi cadresti facilmente in errore davvero non ti accadrà niente di male anzi così potrò spiegarti meglio e potremmo effettuare diversi esperimenti che se le tue funzioni vitali fossero attualmente in atto ti renderebbero infermo o perfino ti ucciderebbero capite perché no cioè se questi si stanno muovendo cioè se il cuore batte c'ha 60 battiti al minuto di media giusto vuol dire che un battito ci mette a farlo un secondo giusto e quindi conseguentemente anche l'impulso che dà alla circolazione del sangue ma se io mi pongo a milionesimi di picosecondo 101 fratto 130 mila miliardi moltiplicato qualche milionesimo l'ha fatto il battito il cuore? no c'è la circolazione del sangue? no no quindi le funzioni vitali sono sospese altrimenti spiega non potresti assolutamente entrare in contatto con ciò con cui ti sto facendo entrare in contatto perché moriresti oppure ne usciresti fuori infermo è importante riflettere su queste cose perché ci si devono aprire degli orizzonti quando noi stiamo dinanzi a queste cose qui o apriamo la mente o è meglio che cambiamo canale d'accordo non lo leggiamo proprio questo libro non lo leggiamo tanto non è pane d'accordo è una rivelazione privata quindi si campa anche senza le rivelazioni private ti prendi il credo della chiesa cattolica te lo tieni quello basta per andare in paradiso non occorre altro non occorre il credo e occorrono poi le opere osservare dieci comandamenti e con la preghiera e con i sacramenti basta non serve altro qui è un dono che il signore fa a chi lo accoglie per per ricevere tante cose belle e per formarsi convinzioni operative solide e massicce cioè terminato questo libro se una persona non gli è venuta una voglia immensa ad andare in paradiso e ha capito quello che deve fare e quindi comincia a vivere come Dio comanda è tutta fatica sprecata riprendo la lettura e ridiamo la parola a Riccardo un'altra sorpresa ancora le mie funzioni vitali erano sospese e ora si agita guardate vuoi dire che non do più segni di vita allora sono morto mi rallegrai di questa conclusione sono morto a lei perché dopo aver intravisto il cielo futuro attraverso la bellezza di tenera amata ancora non ha visto niente ha visto soltanto la bellezza di questa creatura già incominciavano ad essermi di peso gli attaccamenti mondani a questa vita mortale solo vedendo la bellezza di una creatura bassa in gloria molto bassa lo dice lei stessa e quelli che staranno alti quanto saranno belli e la madonna quanto sarà bella e l'umanità di nostro signore Gesù Cristo quanto sarà bella riprendete nella amata mentre ti troverai in questo paratempo lo chiama così attenzione scusatemi se sono pedante para in greco paratempo vuol dire letteralmente presso il tempo perché quello non è tempo perché è talmente infinitesimale che si assomiglia al tempo ma molto alla lontana quindi paratempo per questo che lo chiama così ci vuole da sapere un pochino di greco mentre sarai in questo paratempo sentite ve l'ho già anticipato non palpiterai il cuore l'avervo l'avervo anticipato vi fa capire perché perché uno legge e dice ma come non palpi dal cuore ve l'ho spiegato non circolerai il tuo sangue e non respirerai la stessa cosa vale per il respiro io per fare un respiro ci metto del tempo cioè per fare un movimento di ispirazione e espirazione che ci posso mettere un secondo due secondi non lo faccio in un anno secondo figuriamoci in un picco secondo figuriamoci in qualche milionesimo di picco secondo ora comprendi perché non si è mossa la corona di fumo della tua sigaretta quando tu credevi di soffiare su di essa allora che fa questo qui mi affrettai a tastarmi il polso se mette le mani boh alzo le mani così si vede nel video oddio niente non riesco a capire come mai sono vivo forse non più e meno ancora come riesco a pensare se non ho segni vitali ed ecco un'altra cosa che qui dobbiamo andare a prendere gli scientifici artisti stolti diciamo così e soprattutto i naturalisti d'accordo quelli che pensano che le facoltà umane si svolgano esclusivamente attraverso il cervello e vanno a studiare a vivisezionare tutto quanto il cervello l'emisfero destro l'emisfero sinistro i lobby la chiandola pineale dove starà l'anima sono anche anche i filosofi negli anni passati hanno fatto questi cervellamenti allora tenera interviene e dice quest'ultimo particolare ti dimostra che l'uomo non pensa col cervello quantunque esso intervenga nel pensiero San Tommaso d'Aquino e ha spiegato benissimo che l'organo corporeo in questo caso il cervello fino a quando siamo viatori interviene nel pensiero e nelle circostanze ordinarie del tempo e dell'istante presente in cui noi siamo legati certo che interviene tant'è vero che se ti viene la meningite che è una malattia del cervello tu sembri scemo ma non lo sei scemo quel poveraccio che ha la meningite non è scemo perché quello potrebbe avere un'intelligenza lucidissima fino a quando sta dentro al carcere del corpo però sembrerà scemo e invece c'è gente che la meningite non ce l'ha e invece è scema sul serio d'accordo perché ha abdicato l'uso dell'intelligenza peccato mortalissimo poi in questi tempi mortalissimo mortalissimo abdicare l'uso dell'intelligenza l'uomo non pensa col cervello quantunque si intervenga nel pensiero ma soprattutto con l'anima spirituale l'intelligenza è una facoltà dell'anima spirituale che non coincide con l'organo corporeo ne è distinta anche se forma una unità sostanziale con il nostro corpo la biologia cosmica introduzione ad un altro concetto noi conosciamo la biologia terrestre ah io ho mia sorella che è biologa ti racconta ti spiega tutto quanto ti spiega vuoi sapere come è fatta una cellula come funziona la circolazione come è fatto il dna come è fatto l'rna ti spiega tutto ti spiega cosa sono gli enzimi le proteine tutto quanto ti spiega ma la biologia cosmica ha delle leggi diverse da quella terrestre d'accordo con l'onda temporale dove si sia situato l'essere vivente cosa sta dicendo le leggi della biologia terrestre in questo paratempo non valgono qui dobbiamo regolarci con la biologia celeste o cosmica la vita umana in qualsiasi luogo e tempo dell'universo perché questo sarà il nostro orizzonte l'universo il paradiso ricordiamolo non è una mega cattedrale dove si stare inchiusi perdonatemi a cantare le rodie alla Santissima Trinità le rodie alla Santissima Trinità non serve sono interrotte da parte dei beati ma gli spazi sono sconfinati è grande tanto quanto è grande l'universo il paradiso e anche di più la vita umana in qualsiasi luogo e tempo dell'universo si sostiene mediante le energie la sola differenza è che nelle frequenza del tempo normale terrestre quindi sia chiaro questo concetto noi qui viviamo in una condizione ben precisa da cui non possiamo muoverci questo ne è uscito perché gli ha fatto un regalo l'altissimo e Tenera Amata in continuazione lo tocca poi spiegherà perché lo tocca perché non ci potrebbe stare in quella dimensione in parte supplisce la divina potenza in parte suppliscono quelle comunicazioni di calore di energia che Tenera Amata gli da toccando la mano se non ci potrebbe stare non è la sua dimensione fino a quando è viatore nella frequenza del tempo normale terrestre l'energia si prende dai cibi noi prendiamo l'energia dai cibi e dall'ossigeno dell'aria vedete questa sta facendo una lezione tra l'altro spettacolare cioè ha parlato di fisica ha parlato di astronomia sta parlando di biologia di tutto penso che sia una cosa bella anche per persone magari che non sono molto molto colte molto molto estruite così se fanno come dire una un rudimento perché tutte queste cose sono opere dell'altissimo quindi noi prendiamo in questo tempo terrestre al ritmo dell'orologio scandito dai secondi questa è l'unità di misura temporale di base che noi abbiamo il secondo cibi e ossigeno dell'aria ma nei paratempi lenti da dove lo prende l'energia vitale direttamente dall'ambiente dalla materia energia ambientale e dall'ambiente biologico interno non serve né respirare né mangiare se ci trovassimo nella frequenza normale del tempo della terra sia tu che io avremmo bisogno di respirare e di nutrirci altra domanda allora in questo paratempo il mio organismo sta effettuando l'assimilazione e l'eliminazione certo rispondete l'amata acquista l'energia vitale dal tuo ambiente biologico interno ma la escrezione è quasi nulla capiamo che significano questi termini no assimilazione e eliminazione anche il processo di espirazione è eliminazione dell'energia carbonica ci sono poi processi di escrezione biologici non c'è bisogno che li nomino l'urina altro il sudore se tu restassi in questo paratempo l'equivalente a dieci anni elimineresti appena alcune gocce di sudore lo stesso succede con me ma in un modo sommamente perfetto ciò attenzione anche qui altri concetti spettacolari che ci danno un pochino un'idea di come funzionano le cose altrove ciò è dovuto a che non si formano scarti chimici ma viene utilizzata totalmente l'energia ricavata dagli atomi anche qui purtroppo un minimo cioè se noi non sappiamo che l'atomo è la particella elementare della materia ma che è anche il magazzino dell'energia perché la bomba atomica è così devastante speriamo che Dio si scampi che è un argomento del genere debba diventare ai noi di attualità perché è una devastazione perché sprigiona l'energia dell'atomo avete visto che cosa combina la bomba atomica tutti hanno visto i filmati in televisione di Hiroshima e Nagasaki quindi non si formano scarti chimici perché viene utilizzata totalmente l'energia ricavata dagli atomi ricorda che l'atomo è un grande magazzino di energia pensiamo anche alle centrali nucleari che adesso sono bandite io è meglio che non dico perché non voglio fare politiche o cose come come la penso in questa sede però siccome lui capisce intuisce subito dice ah questa è bella adesso risulta che sto funzionando come un reattore atomico il reattore atomico è semplicemente una centrale nucleare quindi una fonte dove si produce energia atomica bocca mia se ci fossero in Italia le centrali nucleari tutta quanta adesso la situazione delle problematiche energetiche che si prospettano qui a pochi passi da me c'è un c'è un reattore c'è una centrale nucleare a Torre Astura sull'agropontino è stata chiusa dopo la psicosi post-Cernobyl se ci avessi una cosa di quel genere possono tutto quello che vogliano non succederebbe niente vabbè Teneramata riprende dice funziona come un reattore atomico funzioni molto meglio perché utilizzi alcuni atomi ma li disintegri totalmente e non parzialmente come succede nelle pile nucleari ci dà un'altra informazione anche a chi non sa come funziona una centrale nucleare cioè i processi di fissione e di fusione nucleare non disintegrano totalmente un atomo ma solo parzialmente eppure si produce una mole di energia spaventosa peccato che non ti sia possibile godere il piacere che nel cielo sentite che causa la realizzazione delle funzioni biologiche regolate dall'anima attenzione però qui sulla terra si sente appena un leggero benessere quando tutto l'organismo funziona bene ma nel cielo la stessa cosa causa immensi piaceri che accrescono la nostra felicità accidentale qui per capire bene questa cosa è necessario io l'ho avuta questa grazia d'accordo che il signore ci mette in condizioni di ottima salute e ottima forma fisica la prima dipende molto dal signore anche se anche noi dobbiamo fare attenzione la seconda dipende da noi anche perché io parlo per esperienza le condizioni di sovrappeso più o meno consistenti non ti fanno stare bene non stai bene se tu raggiungi un equilibrio buono da un punto di vista di peso corporeo ragazzi io testimonianza ho 51 anni appena compiuti io mi sento meglio fisicamente di quando c'avevo 20 anni quindi c'ha ragione e questo benessere collegato al funzionamento perfetto per ora il signore domani potrebbe pure ammalamme quindi non c'è però al momento tutto sembra funzionare alla perfezione e sto bene l'ho detto le persone che mi conoscono lo sanno lo dico in continuazione per questo che sommato io ritorno indietro farò di tutto per non riprendere manco mezzo chilo di peso ma non per problemi di linea è un problema di di benessere da cui poi tragano giovamento tutte le nostre attività ve lo assicuro il sonno che tu dormi benissimo ma dormi poco e come dire la produttività mentale l'agilità nei movimenti l'organizzazione del tempo questo significa guardate che anche questo io l'ho imparato e adesso lo dico con certezza anche questo significa stare nella volontà di Dio guardate una persona che è iper obesa che va a più 30 va a più 40 che non c'è ma come campa quella lì malissimo è volontà di Dio quella no stare nella volontà di Dio quella persona forse in tutto ma non in quello 100% scusate la digressione tanto non ci abbiamo fretta credo che non ci abbiamo fretta io almeno non c'ho fretta perché così rileggianni in questo modo me la sto rigustando pure io ho letto 7-8 volte questo libro qui perché come tutte le cose belle allora ma nel cielo la stessa cosa causa immensi piaceri che accrescono la nostra felicità occidentale quindi nel cielo questo benessere collegato alla perfezione assoluta del funzionamento dell'essere umano causa immensi piaceri che accrescono ulteriormente la colore occidentale il sentirsi bene che è una cosa divina quante meraviglie dell'universo ignoro pensai ma che poco è quello che la scienza conosce malgrado ci avviciniamo al ventunesimo secolo chi mai avrebbe immaginato che il corpo umano fosse capace di causare tanta felicità o di realizzare la fissione degli atomi capite perché? se questa donna gli dice guarda che tu prendi la tua energia dal tuo interno riprendo l'espressione mentre direttamente dall'ambiente dalla materia energia ambientale e dall'ambiente biologico interno energia per produrre energia dall'ambiente biologico vuol dire che l'ambiente biologico interno come questo ha capito bene funziona come una centrale nucleare realizza la fissione degli atomi senza che tu lo sai ovviamente quando si entra in quei paratempi adesso nel mio organismo io che sto legato al secondo qui non c'è nessuna fissione nucleare non c'è nessuna produzione di energia interna perché io devo mangiare devo respirare per prendere l'energia mangiare troppo e non troppo spesso ma bisogna mangiare e respirare per prendere energia mangiare non troppo e non troppo spesso va bene tenera amata come posso disintegrare atomi se non me ne rendo conto né io saprei quali devo fissionare ed ecco un'altra bellissima verità stupenda la tua coscienza non lo sa è vero ma la tua anima spirituale lo sa lo sa molto bene e lo può realizzare perfettamente così come conosce con ordina la digestione la filtrazione la regolazione l'assimilazione senza che se ne renda conto la tua coscienza fermi tutti voi ce l'hai mai pensato cosa c'è dietro il sistema digerente io tante volte ho detto che mi piacerebbe enormemente riprendermi libri di anatomia di biologia di medicina io vorrei andarmi io me lo ricordo grossomodo come funziona il processo digerente quindi la trasformazione del cibo da quando uno mangia arriva nello stomaco e poi ci stanno tutte quante le fasi successive prima che diventa energia no? questo è un processo perfettissimo ma qualcuno di voi ci ha mai pensato? ah no funziona da solo da solo di che? lo sta facendo la tua anima quel processo gli scienziati non lo sanno pensano che sia una cosa che l'organismo fa fa da sé ma non è così digestione la filtrazione l'assimilazione no? l'assimilare se la tua coscienza psicologica dovesse controllare tutta l'attività del tuo organismo tu non avresti il tempo sufficiente per dirigerne bene nemmeno una sola vedete in questo l'anima come assomiglia a Dio capite cosa significa che l'anima regola tutte le nostre funzioni biologiche a partire dal battito cardiaco sentite l'esempio per esempio se la tua intelligenza e la tua volontà dovessero regolare i movimenti del cuore ma tu non riusciresti nemmeno a dormire né ad attendere a nessun'altra cosa per essere attento ad accelerarli o a ritardarli a seconda delle circostanze chi di voi è appassionato di elettronica adesso esistono gli smartwatch no? divertitevi andate a a mettere la funzione del battito cardiaco poi cominciate se tu stai fermo stai sempre intorno ai 60 battiti al minuto ma già se cammini 65 70 se fai un po' di movimento un pochino più intenso arrivi a 80 se poi cominci a fare attività fisica 90 100 poi se vai in attività cardio 110 120 130 anche 140 150 se uno comincia a correre di brutto e chi è che regola questa cosa come fa l'organismo a capire che se io sto adesso cominciando a correre che sto a sudan e anche al tempo stesso la sudorazione esattamente opportuna più avanti parla anche di questo teneramata e al tempo stesso muovero tutti quanti i movimenti degli arti tutto quanto il sistema nervoso i muscoli ma vi rendete ma ho capito operazioni simultane e contemporanee chi di voi è capace io adesso sto parlando ma se io per esempio mi metto a fare un'altra cosa quindi se cominciassi che ho il telefono qui sotto a parte che ve ne accorgete chi vede il video a guardare l'occhio là sotto e magari mentre sto parlando dico ma fammi un attimo da un'occhiata a sta mail così penso a quello che devo rispondere non fare bene nessuna delle 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 due cose voi capireste che io mi sto distraendo e che perché non lo posso fare perché la nostra attività cosciente è limitata ma l'anima è immagine di Dio a Dio ma Dio quante cose fa in contemporanea allora rinunciamo ma proprio rinunciamo rinunciamo cioè se uno si vuole divertire ogni tanto ci faccio divertire ragazzini no cioè Dio è capace di stare attento secondo il nostro modo di pensare quanti siamo adesso 7 miliardi lui sa perfettamente e vede con scienza di visione fallibile tutto quello che secondo dopo secondo stanno facendo 7 miliardi di persone ma l'ho detto l'altra volta scorsa vede anche le cose in scienza di visione quindi quello che si potrebbe fare è che non si fa cioè ma di che vogliamo parlare la nostra intelligenza cosciente quindi che funziona nel tempo normale cioè è assolutamente impossibile ma neanche lontanamente rappresentarsi una cosa del genere eppure la nostra anima questo lo fa nel piccolo allora Riccardo dice è vero sarebbe molto complicato ordinare volontariamente la sistole con la diastole sapete no sistole e diastole sono i due movimenti del cuore no per chi non lo sapesse tun 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 sistole e diastole sistole e diastole così è no e poi la pressione arteriosa avete visto quando c'è quando si abbassa o si alza la pressione chi soffre di queste cose tribola la pressione arteriosa è giusta chi la tiene sempre 80 a 120 o si sforza di tenerla a quel modo insomma salvo che non intervengano patologie organiche l'anima l'anima spirituale allora riprendetene da amata il nostro dio ha tolto l'autocoscienza tutti questi noiosi problemi dimisurazioni battiti pressioni nervi ecco attività cerebrali non ti preoccupare queste ti sembra che vadano in automatico non vanno in automatico se ne occupa qualcun altro affinché e perché ti ha lasciato in pace il nostro signore ecco una cosa che a cui dobbiamo fare molta attenzione affinché tu applichi il tuo intelletto e la tua volontà a compiere i suoi disegni su di te ad amarlo e servirlo mediante la fede e le opere di autentico amore di carità che succede? Catechismo è un esempio decimo e invece gli esseri umani che ci fanno con l'intelletto? che ci fanno con la volontà? cosa fanno dalla mattina alla sera? io a pensare alla classica persona senza Dio a me mi era l'angoscia solo al pensiero una persona che non rivolge mai che non rivolge mai il pensiero a Dio non prega non lo ama non lo serve non c'ha la fede non compie le opere sante e che campi a fa? io solo immaginarmi una cosa del genere proprio si piomba nell'orrore assoluto l'anima sa molto bene come svolgere ogni funzione biologica e come coordinarle tutte anche quelle psicologiche quali sono le abitudini che automatizzano la condotta perché l'anima presiede anche le funzioni psicologiche l'anima sa vivere anche in cielo e in qualsiasi frequenza onduratoria del tempo l'anima spirituale come pure sa viaggiare a velocità fantastiche attraverso le pareti dominare le forze della natura il mortale possiede in germe ciò che dovrà godere della gloria futura mi viene in mente quella famosa frase di di San Tommaso si vergogni dunque chi ha ricevuto questa roba chi può fare queste cose e butta la vita in mezzo a inutilità quando va bene quando non siano schifezze e porcherie di ogni genere e mi riprende Riccardo ma se la mia anima sa come fissionare gli atomi ma allora perché non la fa una volta per tutte mi risparmierebbe il lavoro quotidiano le molestie della metropolitana e persino le indigestioni domanda per carità comprensibile e dice eh no eh no qui sarebbe troppo facile lo sa fare ma non lo realizza per comando divino non è questo il tempo di fare queste cose perché in questo tempo sei tu che devi imparare a mangiare bene e quanto è necessario perché la gola è un vizio capitale la gola è un vizio capitale amici miei io lo sto rielaborando in questi anni la gola è un vizio capitale e non peccare di gola è merito e lo devi fare tu con la tua coscienza col tuo intelletto con la tua volontà e con i tuoi sforzi ascetici regolati dall'intelletto e dalla volontà non è una cosa facile che tu ti alzi da tavola tutte le sante volte e non sei mai sazio mai eppure un tempo tutti lo facevano perché la regola monastica e dei conventi era non ti devi mai alzare da tavola sazio ah se fai quello non c'è bisogno non c'è bisogno poi di fare le diete o dei piani nutrizionali perché semplicemente se non ti alzi sazio non ti ingrasserai mai arrivare alla sazietà in questa vita significa che sicuramente sicuramente ha assunto un apporto calorico superiore a quello che ti serve dice eh però che fatica eh lo so figlio mio ma qui si tratta di andare al paradiso ecco perché i santi dicevano il santo cura o darsela terribile a tavola comincia la vita del corpo e finisce quella dell'anima lo sa fare ma non lo realizza per comando divino perché sta appena meritando con le sue opere buone la gloria eterna e poi perché a causa del peccato originale questa è una conseguenza questo è un castigo del peccato originale ogni essere umano deve notirsi per mezzo dell'onesto lavoro e sopportare cristianamente le prove che il nostro Dio possa mandarli inoltre la tua anima non si era mai prima ubicata in un paratempo quindi fino a quel momento l'anima di Riccardo non aveva mai fissionato un atomo mai ma appena lo mette in condizione di farlo questa subito dice vai tranquillo lo sa fare ma non lo fa qui perché non è questo il tempo a causa del peccato originale dobbiamo meditare con le buone opere la vita eterna e quindi queste cose non si possono fare qui attenzione a quello che dice Riccardo dice la tua anima non le reazionerà mai prima ubicata in un paratempo dice lui risponde le è bastato collocarsi in esso attenzione per imparare non per imparare risponde terra amata ma per esercitare ciò che già anticipatamente sapeva fin da che il signore la creò dice mazzo ha imparato subito no ha usato una facoltà una funzione che già c'aveva e che qui su questa terra è semplicemente non utilizzata perché non è ora di farlo prosegue l'animo umano è sapientissimo guardate tutti voi che mi stai ascoltando queste cose valgono per tutti capito che cosa ti porti dietro che cosa ti porti a spasso che roba che è la tua anima l'animo umano è sapientissima effettua la cosa principale il pensiero è l'amore e ne ha il tempo terrestre sufficiente per guadagnarsi onestamente la vita educare se stessa compiere tutti i suoi doveri divertirsi sanamente non è peccato divertirsi sanamente affatto è riposare i divertimenti leciti non sono peccato anzi ne abbiamo bisogno con la virtù cardinale della temperanza ciclo di catechesi vizi e virtù c'è l'eutrapedia la moderazione nel gioco e i divertimenti ma non è peccato l'anima deve imparare a calibrare il tempo terrestre quindi guadagnarsi onestamente la vita educare se stessa compiere tutti i suoi doveri divertirsi sanamente e riposare dice dice ricardo non c'è non c'è dubbio che l'anima è un grande mistero risposta sì per i viatori è un enigma non per i beati durante la vita mortale l'anima lavora giorno e notte in silenzio non molesta né distrae l'attività della coscienza sia nella veglia che nel sonno soltanto quando le si presenta qualche problema grave sentite che bello insolubile per lei che non ha ancora i poteri della glorificazione avvisa la coscienza per mezzo di un malessero di dolori affinché intervenga l'intelletto risolva la difficoltà quando stiamo male per esempio attenzione l'anima non può risolvere alcuni problemi perché non ha ancora i poteri della glorificazione si trova dinanzi a un problema avverte l'intelletto ci devi pensare tu perché risolva la difficoltà ma sentite che avete visto che roba abbiamo quasi finito ce lo facciamo sì teneramata se non ho segni vitali in questo paratempo come a me posso muovermi sebbene con fatica speriamo di pascere questo è un altro argomento è molto semplice ogni movimento materiale ha bisogno di energia i pellegrini mortali questo lo sappiamo la ottengono dai loro cibi dopo molti lavori fisiologici di digestione assorbimento circolazione assimilazione eliminazione eccetera tu invece in questo paratempo acquisti l'energia attenzione dal plasma sanguigno e dalla linfa del tuo organismo e per ottenerla il nostro Dio ti aiuta mediante lo sfioramento delle mie dita sulla tua mano questo per quanto riguarda l'energia che viene dall'ambiente noi beati invece prendiamo l'energia direttamente dall'ambiente dove ci troviamo luce calore elettricità forze gravitazionali ed altre energie che dopo ti dirò e inoltre spesso mangiamo dei cibi squisiti anche se di questo non ce n'è bisogno nel cielo e guai a chi si scandalizza di queste cose che pure questo mi è toccato sentire tenere una volta non sta dicendo che il paradiso è il paradiso dei musulmani dove ci stanno tutti quanti i piaceri di questo mondo ma che ci stiano cibi squisiti anche se di va benissimo che ci stiano squisiti cioè che le cose più buone che ci possiamo mangiare sul pianeta terra cominciamo a industriarsi a seconda dei gusti scampi mazzancolle aragoste astici dentici funghi porcini sono niente in confronto poi vedrete quando parla dei liquori celesti per il momento non capì come i beati prendevano l'energia poco dopo mi resi conto del loro immenso potere sulla materia e le forze naturali credo che incominciai a intravedere la punizione divina sull'umanità peccatrice vedete l'interdizione post peccato originale decisa in parte da dio questo è il regime dopo il peccato questo è il regime ce lo siamo andato a cercare e ce lo teniamo mangerai il pane col sudore del tuo volto sono così abituato a lavorare che la mia occupazione mi sembrava normale abituare ma incominciavo a intuire bravo che la stanchezza del dovere quotidiano è qualcosa che dio non voleva per l'uomo dio non vorrebbe che noi lavorassimo e ci stancassimo non era questo infatti mangerai il pane col sudore della tua fronte è sentenza pronunziata dopo il peccato originale non prima intravedevo che la fatica del lavoro umano la malattia e la morte sono dovute non alla volontà divina ma al peccato dell'umanità e mi senti molto colpevole vedete le conoscenze operative e mi senti molto colpevole di cooperare col mio apporto di malvagità al peccato del mondo benissimo benissimo cominciamo a raccogliere un po' di frutti dall'esperienza contenente dell'amata benissimo chi devi rendere ti devi sentire in colpa tutti quanti ma sapeste quanti pianti che ci dobbiamo fare perché è colpa anche nostra non è mica colpa soltanto di Adamo e di Eva non bisogna soltanto mandare gli accidenti a parte che non si devono mandare gli accidenti che sono anime beate ma è anche colpa nostra tutto quello che di sgradevole di gravoso c'è in questo mondo noi lo abbiamo creato non Dio Dio ci dà la grazia di trasformarlo in bene e addirittura in fonte di merito in salvezza ma Dio non l'avrebbe voluto ci lasciamo con questa bellissima cosa è stata una bella conversazione oggi abbiamo conosciuto tante bellissime cose della nostra anima e tante bellissime cose cominciamo a intravedere lo stato di interdizione in cui ci troviamo e prepariamoci a vedere come sarà la gloria d'accidentale quando questa storia di interdizione è finita ma sullo sfondo come molte delle cose che si vivono nell'aldilà almeno in parte si sarebbero vissute nell'aldiquà se non ci fosse stato questo botto questo gap il maledetto peccato che è l'unica causa e radice di tutti i mali tutti i mali fisici psichici morali e spirituali bene amici ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana Dio vi benedica la Santa Vergine sempre vi protegga e a presto Dio vi benedica